Due master bedroom, due bagni, cucina abitabile, lavanderia, studio, soggiorno doppio e ampio terrazzo. Ciao, sono Costantino Viertocchi e anche oggi vi racconto una casa. Venite con me. Ci troviamo nel cuore di Porta Romana, in una delle zone residenziali più interessanti della zona, in un appartamento di circa 160 metri quadrati, con questo bellissimo salone doppio con rifiniture molto interessanti. E guardate dove affaccia su questo ampio terrazzo che, non lo dico neanche, è uno spettacolo. Le rifiniture sono molto interessanti perché abbiamo un parquet in legno Iroku che è molto pregiato. Vi porto nel primo disimpegno dove abbiamo lavanderia, altro balcone e cucina abitabile. La cosa interessante è che ovunque ti giri, dove vai vai, hai un'esposizione e una luminosità che la rende sicuramente molto attraente come soluzione. Da questa parte troviamo quindi nel primo disimpegno anche un ampio studio che affaccia sul nostro terrazzo che può essere considerata o come studio oppure come terza camera. La cosa interessante di questa casa è che, non so ancora come decifrarla, ma è un plus, ci sono ben due master bedroom con due bagni, quindi c'è l'imbarazzo della chef. Vi faccio vedere la prima, molto ampia, quindi con ampia armadiatura, con affaccio sul balcone. All'interno dell'appartamento troviamo riscaldamento autonomo e aria condizionata canalizzata in tutti gli ambienti. Corridoio con ampia armadiatura e guardate questo bagno particolare con luminosità e affaccio sulla via con porta finestra. Vediamo infine l'ultima camera con il suo bagno. Facciamo un piccolo recap di quello che è la casa. Abbiamo 160 metri quadrati, due master bedroom, due bagni, cucina abitabile, lavanderia, studio, soggiorno doppio e ampio terrazzo. Ma non è finita qui. Infatti, la chiusura del video, di solito, come siete abituati, ve la faccio in un altro punto che rende ancora più interessante questa soluzione a trafocco. No, anche se sembra, non siamo a Versailles, ma siamo nel giardino interno di questo bellissimo palazzo che ha appena compiuto 20 anni, quindi di recente realizzazione. Abbiamo un ingresso diretto ai garage dove troviamo appunto con l'appartamento un box doppio ed eccoci qui. Il prezzo l'ho trovato in descrizione e gli immobili che è la Toscano ce li ha solo la Toscano.